Bene, fortunatamente la cena è andata in maniera fantastica, c'è un parecchia scelta, mai come quella che era, mi sembra, Forteventura, sì, Forteventura che c'era, ho preso la mezza pensione anche lì, quella era una cosa grossa, però è migliore rispetto a quella, l'ultima che avevo fatto, che era Tenerife, quella Tenerife, Tenerife è come gli alberghi molto sfigata, sfigatissima, la migliore isola, ma è uno sbocco di sangue tra gli alberghi giusti, era quella con poca scelta Tenerife, qui siamo in una situazione intermedia, quindi più che accettabile, non tantissima, ma di più di quella di Tenerife, di meno di quella di Forteventura e forse Gran Canaria che ricordo vagamente. Allora, mi sono maniato tutto, diversi tipi di pesce, li ho messi tutti sullo stesso piatto, il vivra partotel, formaggi, salumi, il salume tipo salame ungherese era, non sa di niente proprio, qui non so perché ma i salami erano a zero, boh, non ci avranno i porci, non li importano, non so che cavolo fa. Il formaggio invece era ottimo, anche pesce buono, poi sono maniato un ovo, un ovo sodo, un coso con cetriologo dentro una specie di pastina, fa tutte cose strane, crostini, non sono uscito ovviamente a provare tutto, ma c'è, c'è 14 notti, 14 cene, Proverò tutto, poi vediamo anche se varia, vi dico se varia, perché poi se varia poco, c'era qualcuno che scriveva, quella potrebbe essere una sola, una volta che ti sei provato tutto. E adesso sono tornato, poi il dolce pure, c'era il gelato, per la prima volta in vita mia ho smastellato con la palletta, quell'affare che fa la palletta, e ho capito il funzionamento di quella a cricco. Avete presente quell'affare che vi crea le pallette di gelato? C'era una specie di tenaglietta, no? E il funzionamento è il seguente, intanto sto tornando alla zona quella dei ristoranti vicino al giardino, dove c'era Movimento e le bancarelle, però sto passando, se avete davanti la piantina di Minorca Ciutadella, sto passando dopo la spiaggetta, sto andando in fondo al punto panoramico, che poi dalla parte di là è una specie di saliente che va nel mare, dalla parte di là si arriva fino in fondo, poi torna su di là e c'è la zona dei ristoranti. Invece prima avevo tagliato in mezzo, anche perché questa è un po' lunga, sto andando giù lungo questa strada qua, quindi alla fine c'è la punta, c'è una punta col punto panoramico e sembra un po' deserta, come dicevano, probabilmente il caos è, spero che ci sia un po' di movimento nella zona che avevamo visto prima, adesso ci arrivo, sono le 10, ho mangiato a me tanta roba che mi sono alzato su quattro volte per prendere le cose. Una fregatura e i bicchieri sono piccoli e ti danno l'acqua gratis, su alcuni di questi che ho fatto le bibite erano comprese, c'erano proprio quegli affari tipo la raspina, che tu vai là e metti il bicchiere sotto e ti danno il vino, la sangria, come anche quello a Tenerife mi sembra, mi ricordo, mi si confonde tutto, però insomma certi erano gratis, uno, sicuramente quello che era forte forse si pagava, come vi dicevo, con quelli che ti arrivano devi chiamarli certe volte, qui è più figo, si paga, l'acqua è gratis, le bibite si pagano, però all'ingresso, tu puoi tornare in qualsiasi momento, entri, c'è uno che ti tiene il numero della camera e ti segna e poi vai al buffet, quindi vai là, ti metti sul piatto quello che vuoi, vai sul tavolo, puoi tornare a prendere altra roba, sui dolci c'è il gelato, il cocomero, un sacco di pastarelle, insomma ottimo, ho preso quattro piatti solo sul dolce e in qualsiasi momento puoi andare là, all'ingresso c'è questo tizio, non c'erano neanche tante persone, però giovedì, fine settimana di solito ti frega, e c'è un frigorifero con dentro vini, anche quelli piccoli, adesso ne prenderò alcuni, e quelli mezzo litro penso, poi le birre, le aranciate, l'acqua, ho preso una corona stasera, la grossa fregatura è che non hanno la sangria, ma io ho detto ma la sangria, ma questa no, la sangria no, cioè stiamo in Spagna, ma come si fa? qui stanno imboschati alcuni qua sotto, non so che fanno, e quattro euro la corona, devi pagarla, quello che prendi in più tra l'acqua lo devi pagare, vai là, te lo prendi e te lo porti al tavolo, questo è positivo perché te lo organizzi tu, insomma, non devi aspettare i caminieri come quell'altro che ti rompevano, certe volte non venivano, devi andarle a cercare, vai all'ingresso e ti dà quello che vuoi, e proverò un po' tutto, quattro euro una corona, tutto sommato accettabile, e basta, adesso siamo per arrivare al punto osservatorio, qua c'è un punto panoramico in fondo, e poi si torna su di là e speriamo che ci sia un po' di movimento, e qui è veramente morto, allora, sono arrivato al punto dove ero oggi, che c'era un ristorante, un po' di movimento, un po' di casino, giovedì sera, fine giugno, non c'è nessuno, non so se c'è qualcosa un po' più su, vedo delle luci, ma non c'è nessuno, e questa era la città che, su TripAdvisor, su le varie guide, eccetera, viene classificata come quella che c'è un po' più di vita, e quindi l'altra città è Mahon, quella della parte opposta, quindi se qui c'è un po' più di vita, immagino che là, praticamente, non c'è neanche persone di possedute come questa che legge, o quell'altro tizio là, e presumo che a Mahon non mi siano neanche questi soggetti, ma questa è stata una sera a rotelle, non so cos'è, sembra un passeggino, direi, boh, non è un anziano, vabbè, comunque, cioè, spero che ci sia qualcosa qui davanti, per carità, io passeggio, non ne frega niente, anzi, sarà una vacanza alternativa e rilassante, però qui, cioè, tipo bombacca, e strade, e c'è pieno di turisti, se avete visto questo posto, beh, in realtà, l'aereo, c'erano dei posti vuoti, quindi, la verità è che, è la meno turistica di tutti questi, qui c'è un grosso yacht, Cadamarani, vado avanti, perché ancora non l'ho studiata, la città vera e propria sta qua avanti, ho visto, il perimetro con, unigivio, chiese, sta tutto qua su, ecco, quella collina, non so se la vedete, c'è una rossa chiesa, laggiù, in sottofondo, quindi noi proseguiamo, analizziamo tutto, poi se è proprio un mortoglio di Dio, e ne farò una ragione, passeggio comunque, basta che c'è un gelataro, là i giardinetti ci c'era, vedremo, allora, ho sbagliato, non ero ancora arrivato al punto dei ristoranti, dove prima c'era un po' di casino, un po' di rumore, è quello là, è questo qua davanti, sto ancora indietro, infatti c'erano i lavori, iniziano qua, già ho fatto tre chilometri all'albergo, per arrivare qua, sento la mia app Adidas Running, con la femmina che dice, hai percorso tre chilometri, hai bruciato queste calorie, Adidas, poi la pubblico su Facebook, c'è appunto tutti, la mappa con, tracciata la mia passeggiata, fighissimo, qui c'è una passerella, che non è una roba sessuale, è questa cosa in legno, dove le persone camminano, sono dimenticato che c'è lo zoom, riproviamo lo zoom, tac, zoomato, capito? sì, là sotto è pieno, il ristorante è pieno, bello, bello, l'ingresso è bello, vediamo se qua c'è casino, c'è ancora una sede bestiale, mi sono fatto cinque bicchierini, probabilmente mettono i bicchierini, così devi alzarti su, io consumi meno acqua, no? perché uno, mi alza in piedi, andrà là, ti prende l'acqua, alla fine uno si stanca, gli anziani soprattutto, e quello risparmia l'acqua, bastardi, cinque volte mi sono alzato su, con questi cazzo di bicchierini, e prendere l'acqua, mi sono fatto cinque bicchierini, e comunque sarà mezzo litro, forse anche di più, la corona, ma c'è ancora una sede pazzesca, 34-33 gradi oggi, ripeto, le previsioni dicono che, la prossima forbice, per i prossimi dieci giorni, è sempre fantastico, gli metterei, una firmetta a sangue, è 30-18, per adesso, però dopo cena, le 10, le 11, siamo dopo le 10, metteva sempre 22-23, quindi comunque, 18 gradi all'una, le due, sono già in albergo, bello sto scorcio, come l'ingresso, adesso ci faccio la foto, eh, questo è un grosso ristorante, e mangiano come porci, la cittadina è là dietro, praticamente, non ci sono mai andato ancora, è lassù, eccomi qua sopra, allora, se andate su TikTok, e cercate Viaggi Lorenzo, oltre al mio canale YouTube, che state vedendo, assumibilmente, dove state vedendo appunto, questo video, su TikTok, cercate Viaggi Lorenzo, dovrei uscire fuori io, e ho appena pubblicato un video, ne ho pubblicati molti, a dire la verità, e adesso, poco fa, l'ultimo, qua sotto, ho fatto proprio, una ripresa con il cellulare, con il mio iPhone, oltre all'Osmo Pocket, che state vedendo all'opera, il video è realizzato, con l'Osmo Pocket 2, 2, il 3, è uscito poco dopo, che ho comprato il 2, perché si è tolto l'1, la sfica, un 6 mesi dopo, è uscito il 3, ho bestemmiato tantissimo, potevo comprare il 3, in realtà, costava 200 euro in più, il 3, quindi forse, qualche anno, vado avanti ancora, con il 2, sperando che poi, scende di prezzo, ma poi non succede, perché, la, l'Osmo DJI, mi sembra DJI, sì, è quella dei droni, sì, è quella dei droni, e sono cinesi, questi lo sprezano, una volta piazzato, questi della DJI, rimane quello, l'Osmo, l'ho pagato 300 e qualcosa, wow, questo cos'è, che figata, faccio un bello, la foto anche qua, quest'altro, il 3, è professional, pro, dicono, mi hanno messo 3 lettere, pro, e questo, 530, 60 euro, mi ricordo, ah, uno sbocco di sangue assoluto, per il momento, vado avanti con il 2, finché non finisce il 2, poi copro il 3, ecco, 10 euro,